Sì, andiamo via dritti da qua. Tuffo, tuffo. Ecco qui. Sì, andiamo via dritti da qua, andiamo via dritti da qua, andiamo via dritti da qua. Sì, 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 andiamo via dritti da qua. Vedete che è un po' che non puliamo più qua. Per forte ricordo. Vado a andare su. No, vado a andare su. è un pezzo che non puliamo più l'unica è andata qua ai tempi giravano qua i due pali gira dentro Pietro ai tempi giravamo dentro qua i due pali e andavamo lì perchè se no dobbiamo arrivare fino alla è lunga con tutte le trappole perchè qua io sempre paura non c'è una punta qua non c'è un pezzo non c'è un pezzo non c'è un pezzo non c'è un pezzo la prateria è così la prateria è così